Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Santissima Madonna del Miracolo, Vergine fedele, a te mi rivolgo con cuore colmo di speranza e umiltà. Tu che sei l'arca dell'alleanza, ponte tra il cielo e la terra, ti imploro di ascoltare la mia fervente preghiera. Ti guardo, Vergine Maria, tu che hai accettato, con coraggio e amore incondizionato, l'invito dell'Angelo Gabriele, portando nel tuo ventre il Salvatore del mondo. Riconosco il tuo ruolo fondamentale nella storia della salvezza, ed è per questo che, con fede incrollabile, mi appello alla tua intercessione. Oh Madre del Miracolo, ricordo con reverenza il tuo straordinario segno alla Minerva, dove il pane consacrato si trasformò nell'immagine del tuo figlio. In quel gesto abbiamo visto la tua potenza, l'amore del tuo figlio per noi, e la tua eterna intercessione in nostro favore. Oggi, io, tuo umile servitore, ho bisogno di un miracolo. Mi trovo davanti a un ostacolo, che sembra insormontabile, una prova, che scuote la mia pace, e mette alla prova la mia fede. Per questo motivo, mi rivolgo a te, Madre di Misericordia, sperando nel tuo aiuto e nella tua guida. Conosco bene la mia debolezza, la mia mancanza, e la mia imperfezione. Mi riconosco peccatore, e ammetto i miei errori. Tuttavia, credo nel perdono di Dio, e nella tua compassione infinita. Per questo, ti prego, intercedi per me. Porta le mie suppliche al trono del Padre, così come hai fatto a Cana, dove hai mostrato la tua premura per la necessità umane. O Maria, tu che sei rifugio dei peccatori e consolatore degli afflitti, ti chiedo di abbracciare la mia causa, di portare la mia richiesta di grazia al tuo figlio. Chiedo la tua misericordia, Madre del Miracolo, perché nella tua benevolenza risiede la mia speranza. Fa che io possa affrontare le sfide della vita, con coraggio e determinazione, munito della forza che proviene dal tuo amore. Aiutami a riconoscere la volontà di Dio nelle mie difficoltà, a non perdere mai la speranza, anche nei momenti più bui, a perseverare nella fede e nell'amore incondizionato verso Dio. Infine, Madre del Miracolo, voglio ringraziarti per l'amore che dimostri a tutti noi, per la tua intercessione continua e la tua costante guida. Sia fatta la tua volontà e quella del Padre, perché in Lui risiede la mia fiducia. Grazie, Vergine Maria, per ascoltare la mia preghiera. Amen Grazie 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 Grazie